Perché il fatto non sussiste con questa formula sono stati assolti dai giudici della terza sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Maria Piaurso, l'ex sindaco di Fiumefreddo di Sicilia, Sebastiano Nucifora, e il presidente dell'Associazione Sole e Mare, Giuseppe Siligato, imputati per concorso in abuso d'ufficio. Secondo la procura di Catania, l'ex primo cittadino nell'agosto del 2010 avrebbe autorizzato, con un provvedimento in realtà di competenza del funzionario responsabile del servizio, una mostra con stand sul lungomare di Marina di Cottone, lungo la regia Trazzera, di proprietà dell'ormai ex provincia regionale di Catania, senza chiedere alcun canone all'associazione organizzatrice La Sole e Mare di Siligato per l'uso del suolo pubblico, e concedendo alla stessa associazione la possibilità di riscuotere somme dagli utilizzatori degli stand, procurandole così un ingiusto vantaggio patrimoniale. Ma i legali della difesa, Walter Rapisarta per Sebastiano Nucifora e Giovanni Spada per Giuseppe Siligato, avevano sostenuto sin dall'inizio che la cifra riscossa era stata in realtà utilizzata per la riuscita dell'evento. Tutte le spese, dalla pulizia al montaggio e allo smontaggio degli stand, erano state infatti a carico dell'associazione Senza Alcunonere per il Comune Ionico. «Sono sempre stato fiducioso che tutto si sarebbe risolto per il meglio», ha commentato Giuseppe Siligato. «Avevo organizzato quell'evento per implementare il turismo del mio paese. Quello di cui mi accusavano era illogico». Commenta l'esito del processo anche il difensore Giovanni Spada. «Siamo naturalmente soddisfatti dell'esito del giudizio che ha acclarato l'insussistenza delle accuse di Chiara Illegale e la correttezza dell'operato del mio assistito volto a garantire a commercianti e artigiani di fiume freddo di Sicilia una possibilità di promozione dei propri prodotti nell'ambito della manifestazione estiva organizzata». Nessuna dichiarazione per l'ex sindaco Sebastiano Lucifora.